Io sono un po' triste. Perché? Perché sta per finire CreatiV. E vabbè, ma CreatiV, pare che siamo alla settima puntata, quindi abbiamo ancora due puntate più uno speciale finale. Ma poi CreatiV rimarrà... Nelle nostre memorie, lo so, ma non è la stessa cosa. No, anche visibili in tutto il mondo attraverso il web. Vero? Giuro, tra breve saranno tutte le puntate di CreatiV su internet, cliccabili dal nostro sito www.ilcantiere.it grazie all'associazione Pandora che stiamo per andare a intervistare. Bene, mi piace. Già che ci siamo, dai anche il numero sms. Lo state già vedendo proprio qua sotto, 348-0904-594, è il numero a cui voi potete far arrivare tutti i vostri messaggi. Ne stanno arrivando tanti, siamo contenti e orgogliosi perché comunque c'è fermento, ci sono tanti ascoltatori che ci seguono. E potete sfruttare questo numero anche per iscrivervi al sistema di messaggistica nello sguardo. Ovvero, gratuitamente riceverete informazioni su quello che sono attività culturali e informazioni di concerti e altre cose interessanti in tutto il DCO. Sì, e stasettimana non ci ha scritto nessuno di importante, come al solito. Questa settimana ci ha scritto Adriano Cedentano. Sì, cioè dopo Fazio scriveva te. Sì, e non era contento dell'intervista che ha fatto a Fazio, voleva venire qua a prendere il mio posto e poi ovviamente dovevi andargli in braccio tu verso il finale dell'intervista. Come ha l'ITZ. Ma gli ho detto di no. Vabbè, valuto bene questa storia e soprattutto il fatto che tu abbia deciso per me e passo la parola a Cecio di Pandora.